La teleimpianti è stata fondata nel 1974, opera nei settori delle telecomunicazioni private, della telematica e della sicurezza. Nel 2008 sono entrata in azienda, ingresso accompagnato da mio padre e dai suoi insegnamenti. I suoi consigli sono stati e sono tutt'oggi preziosissimi per me. Maurizio è stato un bambino molto difficile, piangeva sempre. Come diceva mio padre, chissà quale sarà il futuro della teleimpianti, perché non ho figli maschi. Quindi posso dirgli che oggi siamo qui, anche se siamo femmine, e che le Barcelloni continuano con due generazioni femminili, perché adesso abbiamo Sofia e Lavinia, e chi vivrà vedrà. Teleimpianti è un'azienda storica, ma è anche un'azienda giovane e che guarda il futuro. Se noi guardiamo la realizzazione delle altre impianti, talvolta certi clienti mi dicono ma voi siete una grande azienda per fare questi lavori. No, noi siamo una piccola azienda che fanno grandi lavori. Si rivolgono a noi coloro che vogliono degli impianti moderni, efficienti e soprattutto vogliono un servizio di manutenzione, di assistenza, di post vendita efficiente. Bugnone S.p.A. è una società italiana che si occupa di IP, cioè proprietà intellettuali. Nella realizzazione dell'edificio abbiamo subito pensato alla ricerca di un partner che potesse garantirci un'alta qualità in tutti quelli che erano gli servizi che per noi erano necessari. La progettazione dell'impiantistica è stata coordinata totalmente insieme a teleimpianti fin dall'origine. Siamo rivolti a teleimpianti per sviluppare un sistema di telefonia avanzato in modo da riuscire a far diventare uno strumento in più, uno strumento efficace, la telefonia. Abbiamo sviluppato ed evoluto ed aggiornato negli anni un sistema che ad oggi ci consente davvero di aumentare la sicurezza. Teleimpianti cerca di vedere domani. È nata nel 1974 come una semplice azienda di installazione e oggi è un sistema integrator in grado di realizzare complessi sistemi di building automation in strutture molto pregiate. Quando uno pensa a teleimpianti deve pensare a Bologna. Grazie a tutti. Maurizio parlava sempre del lavoro e dell'impianto e un giorno mi disse adesso mamma posso stare tranquillo, la Giulia mi manda avanti in ufficio, io sono a posto, sono felice, sono tranquillo. Il pane è stato fondamentale nei due anni in cui mi ha seguito, mi ha insegnato i valori della nostra azienda. Teleimpianti è teleimpianti per merito di tutti i nostri collaboratori, è una grande famiglia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!